Comunicazione ad un medico dell'ingresso nel territorio regionale delle Marche e isolamento fiduciario per 14 giorni per chi viene dalle ex zone Arancioni, cioè Regione Lombardia, e 14 province italiane di Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche, tra cui appunto anche la provincia di Pesor Urbino. E quanto prevede l'ordinanza numero 4 del Presidente della Regione Marche, pubblicata oggi e illustrata nel corso della cabina di regia che si è tenuta ieri pomeriggio a Palazzo Raffaello. L'atto riguarda le persone provenienti dalle zone di contagio previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo scorso e che hanno fatto ingresso nella Regione Marche a partire dal 7 marzo scorso, escluse quelle che però hanno effettuato spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Queste persone devono comunicare il loro ingresso al medico di medicina generale o all'operatore di sanità pubblica del servizio territoriale competente e poi osservare una misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni. Un provvedimento, si apprende dalle fonti della Regione, è adottato anche per monitorare l'arrivo di persone provenienti dalle ex zone arancioni e che hanno seconde case, in particolare lungo la zona costiera delle Marche. Alcuni sindaci di località turistiche hanno avviato dei controlli delle targhe e distribuito materiale informativo. Inoltre, per evitare in maniera più efficace il rischio di contagio per la popolazione anziana, per le persone disabili e per quelle con problemi di salute mentale è obbligatoria, la Regione ha disposto, a partire dall'11 marzo e fino al 3 aprile, la sospensione delle attività dei centri semiresidenziali e diurni su tutto il territorio regionale, incentivando, dove possibile, percorsi di domiciliarità e servizi di prossimità.